La barchetta Tornatore, auto da corsa costruita negli anni 40 da Michele Tornatore, che fu anche un abile pilota e presente all'aeroporto di Catania nell'area partenze per essere ammirata nei prossimi giorni dai numerosi viaggiatori che frequenteranno lo scalo Etneo. L'inaugurazione dell'esposizione è avvenuta lunedì 8 agosto in presenza della dirigenza dell'aeroporto, i rappresentanti dell'ACI, l'amministrazione Nissena, nonché i nipoti emozionati di Michele Tornatore. Si tratta di un'iniziativa accolta dall'aeroporto catanese, realizzata su proposta dell'Automobile Club Caltanissetta, grazie anche alla disponibilità della stessa famiglia Tornatore e che rientra nel programma del centenario della Coppa Nissena. L'esposizione permette dunque di accendere ancora una volta i riflettori sulle celebrazioni in occasione dell'anniversario della gara Nissena, che dal 16 al 18 settembre completerà il calendario 2022 del campionato italiano velocità-montagna e per far conoscere sempre più la competizione che ha alle spalle un secolo di storia. Quest'anno inoltre anche l'autodromo di Monza festeggia i suoi cento anni e l'Automobile Club Caltanissetta avrà uno stand espositivo nell'area dell'autodromo il prossimo 11 settembre, in occasione del Gran Premio di Formula 1. Una delle tante iniziative concordate dalle due organizzazioni si legge nel comunicato, che sono volte a promuovere la storia dell'automobilismo, lo sport con i suoi valori e la cultura per l'auto e la sua evoluzione. Grazie.